Sono qui con Andrea Pomella, autore dell'Uomo che trema, un bellissimo libro. Comincerò con una citazione perché scrittore, giornalista, la parola appunto è qualcosa di importante. Tu scrivi, la malattia in me quindi, originariamente, si è manifestata nella sfera del linguaggio. Mi autocensuravo, sopprimevo dal mio vocabolario alcune parole, parole che se pronunciate ad alta voce mi si conficcavano nella pelle come spine, parole che non riuscivo a tollerare e che se fossi stato il più spietato dittatore a capo di uno stato totalitario avrei abrogato dall'uso comune. Allora, la parola pronunciata e la parola scritta. Come hai dato spazio alla parola scritta? Io ho trovato sempre molto rivelatore questo fatto che la mia malattia si è mostrata per la prima volta attraverso il linguaggio, l'uso della parola. Io avevo abolito una serie di parole dal mio vocabolario, la prima delle quali era il mio cognome, io non riuscivo a pronunciare il mio cognome, non riuscivo a pronunciare la parola papà perché comunque ho avuto un'esperienza di abbandono alle spalle che racconto nel libro. E potermi riappropriare delle parole, ma non solo delle parole specifiche, ma usare la parola, in questo caso la parola scritta, per poter poi raccontare quello che è irraccontabile per definizione, che deve essere poi sempre la stella polare che dovrebbe insegurire la letteratura, cioè raccontare l'indicibile. Per me è motivo di orgoglio e devo dire anche di rivincita, per certi versi. Vorrei anche riflettere sulla questione proprio del silenzio. Prima, durante la trasmissione, si è parlato proprio anche di questa cacofonia dei social media. E tu a un certo punto hai parlato del silenzio come realtà contemplativa. Quanto è importante in questa società lo spazio del silenzio e della realtà contemplativa? Il silenzio è un bene prezioso, secondo me, perché i beni preziosi sono quelli che non si trovano, quelli che sono rari. Oggi trovare il silenzio è qualcosa di difficile e non c'è possibilità, a me è capitato tempo fa, per esempio, per un giorno di vacanze, insomma, di finire in un agriturismo immerso in natura. La cosa che mi ha colpito è stato proprio il silenzio. E mi sono reso conto di quanto appunto questo sottofondo continuo, rumoroso, che non riguarda solo i decibel della città, ma riguarda proprio anche il rumore, per esempio, che fanno appunto le nuove tecnologie, il rumore del chiacchiericcio anche scritto, sia così intrusivo nelle nostre vite. D'altra parte, insomma, tutto va sempre preso con dosi di moderazione, perché una delle caratteristiche, una delle cose più dolorose, per esempio, a cui ho potuto vivere, a cui ho potuto assistere da depresso, è stato proprio l'irruzione del silenzio, che è un silenzio interiore molto simile a un nulla metafisico. E quello, devo dire, mi ha fatto molta paura. Ho capito. Cito la dichiarazione che hai lasciato a un collega, ed è bellissima, secondo me. Se esiste, dici, se esiste un concetto di patria in cui mi riconosco, inteso come catalogo di fatti e relazioni che costituiscono un'identità condivisa, questo è legato alla parola, alla lingua in cui mi esprimo e solo a quella. Vuoi dirci, andare oltre questa cosa che è bellissima? Io qua non ho quasi nemmeno la percezione di essere in Svizzera, sendo circondato da persone che parlano in italiano, che parlano quindi la mia lingua, io mi sento effettivamente parte di una comunità, per quanto venga da chilometri e chilometri di distanza da qui. La parola è un luogo, è un luogo concreto. Poi, al di là delle lingue, per le quali, insomma, secondo me, la parola è veramente il posto in cui io mi riconosco. Quando leggo un libro, quando leggo qualsiasi cosa, insomma, io sono in quel posto, mi sento a casa con la parola. Anche se poi oggi, come oggi, insomma, io faccio sempre una riflessione rispetto all'uso della parola scritta in particolare. Io credo non esista una generazione precedente a questa che abbia usato così tanto la parola scritta. Cioè, la parola scritta è tornata prepotentemente al centro della vita delle persone. Noi scriviamo continuamente sui telefoni, sui computer. Eppure il peso delle parole sembra essere così poco specifico, se posso usare questo termine. Esatto. Si scrive di più, ma come? Errori di ortografia, pazzeschi, e la parola viene anche svuotata dalla sua carne, a volte. Cioè, a volte si ha l'impressione che le parole, boh, non abbiano senso, vengono usate così, alla rinfusa. Metto delle parole una in fila all'altra. Cosa vuol dire, invece, scrivere? Allora, io credo che la parola sfrondata dal suo significato e quindi usata male sia un'arma, un'arma pericolosissima. La parola usata bene costituisce civiltà di pace. Io credo che l'uso della violenza che noi vediamo anche nei social network, per esempio, in tutte quelle polarizzazioni sui discorsi, hate speech, per esempio, deriva dal fatto della non comprensione, come il cane e il gatto che se muovono le orecchie in un senso o nell'altro, lo muovono in sensi inversi, hanno significati diversi, non riescono a capirsi. Se non si riesce a spiegare quella che è una propria idea, si va verso l'uso della violenza. Per cui io credo che, l'ho detto anche prima durante la trasmissione, la conoscenza, l'apprendimento sono secondo me fondamentali in questo senso, perché le parole bisogna saperle usare proprio per fondare civiltà di pace. Beh, questo potremmo concludere anche con questo bellissimo messaggio, però sono curiosa per cui te ne farei un'altra. Sei scrittore, quindi la scrittura, lo scrittore ha dei ritmi, ha delle pause, ha dei tempi. Il blogger deve andare un pochino più veloce. Come concigli questi due mondi? Io ho avuto un blog per dieci anni, l'ho usato diciamo come palestra di scrittura, perché poi la scrittura è un esercizio, va allenata giorno per giorno. Non è una cosa che ti arriva infusa dall'alto, una scienza che viene data per via spirituale. È un esercizio, è qualcosa che va praticato giorno per giorno. La scrittura per me è questo. Anche se poi, diciamo, l'esercizio concreto della scrittura, io scrivo molto poco ogni giorno, non più di 45 minuti, massimo un'ora al giorno. Perché? Perché secondo me si scrive più pensando. I libri, a volte, per quanto mi riguarda, sono stati scritti in vent'anni, pensandoli, e poi restituiti sulla pagina scritta in pochi mesi. Per cui ecco, si scrive più che altro, almeno per quanto mi riguarda, pensando, riflettendo. L'ultimissima domanda, il mondo nuovo è il tema di quest'anno di Chiasso Letterario. Qual è il tuo mondo nuovo, Andrea? Il mondo nuovo è la possibilità di rivedere di nuovo il mondo con occhi, non dico di una persona guarita perché dalla depressione non si guarisce mai, ma di rivedere il mondo con quell'opacità, quella sana opacità, che è tipica delle persone che stanno bene. Vedere invece quella realtà sfrondata di ogni tipo di immaginazione, così come la vedevo da depresso, era un mondo, un non mondo. Ecco, per me il mondo nuovo è il mondo. Bene, allora con questa tua idea di mondo nuovo ti saluto e ti auguro ancora benvenuto a Chiasso Letterario.